Maiana, per me, per me, pensare che anche tu stia bene a moto, lui è un vero sogno. Amiamo ripetere canzoni antichissime, per noi di cambiare non ce n'è bisogno. Tradizione e passione ci emozionano e ci piacciono, le cose che contano le abbiamo qui. Il cibo non manca mai e usiamo le nostre mani, è splendido vivere così. Ma dove vai? Rimani a moto lui, sei tu che dovrai guidarci. Resta qua, ti accorgerai, che questo è il posto in cui la gioia che hai nel cuore sboccerà. La palma da cocco è cos'è? Un albero che utilizziamo per tutto, è eccezionale. Possiamo farci un bel gesto, puoi bene il succo e poi, le bolle bruciano presto, puoi facerci ciò che vuoi. È un'isola splendida, c'è grande armonia, è la più bella che ci sia. Nessuno va via. La gente sa che nulla ci può toccare, possiamo avere un futuro solo qua. Ti piacerà, ti devi solo adattare, fuggire è sempre via. Ma che senso fa? Danzare insieme alle onde mi piace molto perché l'oceano mi provoca. È un tipo socievole, mi credono pazza a tutti, ma il bello per me lo sai è fare soltanto quello che vorrai. Sei brava e rispettosa, fiera più che mai, ma la tua anima esprime ora il sogno che in fondo hai. Il cuore ti sta parlando e io lo ascolterei, può farti capire adesso ciò che sei.